Il segno del pane è importante, è l'alimento di ogni giorno con cui portiamo all'altare tutto ciò che siamo e che amiamo, vita, opere, successi e anche fallimenti, come simboleggia una bella usanza di alcune culture di raccogliere e baciare il pane quando cade a terra. Per ricordarsi che è troppo prezioso per essere buttato anche dopo che è caduto. L'Eucaristia ci insegna a benedire, accogliere e baciare sempre in rendimento di grazie i doni di Dio. In questo non solo, nella celebrazione anche nella vita, ad esempio non sprecando le cose e i talenti che il Signore ci ha dato, ma anche perdonando e risollevando chi sbaglia e cade per debolezza e per errore, perché tutto è dono e non la può andare perduto, perché nessuno può rimanere a terra e tutti devono avere la possibilità di rialzarsi e riprendere il cammino.